Terminato l'adeguamento dello studio di fattibilità tecnico-economica, acquisiti i necessari pareri favorevoli in sede di conferenza dei servizi e assegnato l'appalto integrato, comprendente anche la progettazione esecutiva, entro la fine del 2025 si aprirà il cantiere per la costruzione del nuovo ponte sulla statale 565 di Castellamonte nei pressi di Strambinello, che andrà a sostituire l'attuale infrastruttura nota come Ponte Preti. Questo in sintesi quanto emerso nel corso di un incontro che il vice sindaco metropolitano Jacopo Suppo e il sindaco di Castellamonte, consigliere metropolitano delegato ai trasporti Pasquale Mazza, hanno avuto con gli amministratori locali della zona. Si apre un percorso che a fine 2025 potrebbe finalmente vedere la canterizzazione di quest'opera. Sì, togliamo il condizionale e diamoci come obiettivo realistico quello di aprire il cantiere per la realizzazione del nuovo Ponte Preti, un'opera strategica per tutto il territorio di Strambinello, di Castellamonte, di Baldissero, davvero un'opera molto attesa. La città metropolitana nel 2020 aveva ottenuto un finanziamento da 19 milioni e mezzo di euro dal Ministero, nel frattempo l'infrastruttura è passata di competenza ad ANAS e c'è stato un lungo lavoro di raccordo tra città metropolitana e ANAS per quello che riguarda la fase progettuale. E anche con il territorio perché abbiamo voluto ascoltare le istanze delle amministrazioni locali rispetto alla viabilità parallela a questa infrastruttura così importante che sarà la realizzazione del nuovo Ponte Preti. Ne è emerso un quadro progettuale molto articolato che è stato apprezzato dagli amministratori che abbiamo incontrato oggi. Adesso la sfida è quella di realizzare il lotto 1, quindi il nuovo Ponte Preti, gli accessi alle varie viabilità di città metropolitana e di ANAS, farlo a partire dal 2025 e poi andare a trovare le altre risorse che servono per completare l'intervento. Oggi abbiamo disponibili, come dicevo, 19 milioni e mezzo, dobbiamo tendere ai 34, che è il quadro complessivo dell'opera che, ripeto, riguarda la realizzazione del nuovo Ponte e la realizzazione anche di alcune viabilità locali parallela. Sindaco, parliamo di un intero territorio che avrà un beneficio perché la viabilità significa anche attività produttive, significa vita sociale. Assolutamente sì, ed oggi come oggi noi tutti i giorni andiamo incontro a delle problematiche, in quanto il ponte che è stabile ma stretto perché fatto oltre 100 anni fa non dà la possibilità ai tir attuali di poter transitare assieme. Quindi è questa un'opera assolutamente indispensabile, ma già solo per la perdita di tempo e per le code che avvengono tutti i giorni in quel tratto di strada. Dopodiché è evidente che per noi sarà un gran bel risultato. Al sindaco di Baldistero Canavese chiediamo quanto è atteso questo nuovo ponte dal vostro territorio, dai vostri cittadini e qual è il disagio attuale? Il disagio attuale sono tutte le code interminabili che fanno i camion quando passano, se si incontrano due camion si blocca il ponte, è già successo più di una volta con code lunghissime, quindi è senz'altro una cosa importantissima, visto i mezzi pesanti che passano è indispensabile secondo me farlo. E il ponte attuale risolverà anche qualche problema di viabilità locale, di accesso ad abitazioni, a insediamenti? Sì, ci sono le case di Strambinello dall'altra parte del Chiusella che verranno servite penso con questo ponte ancora, il ponte Preti Vecchio.